Oggi in casa Wingham presentiamo il City Suite, un mezzo compatto e molto agile, con i suoi 2,05 di larghezza, 5,99 di lunghezza e 2,77 di altezza. Un passo da 3,80, sbalzo posteriore da 1,24 che permettono un raggio di sterzata di 13,90 m. Il City Suite è prodotto su telario Ducato con motorizzazioni a rossè di temp 140, 160 o 180 CV, cambio manuale o cambio automatico. Il cambio automatico è un cambio a doppia frizione e 9 velocità. Il City Suite coniuga tutta la qualità Wingham con i vantaggi del furgonato. Anche il City Suite è una monoscocca in fibra di vetro, compresa la porta d'entrata e tutte le gavonerie. La monoscocca Wingham è formata da un pannello sandwich di vetroresina esterna, 2,5 cm di poliuretano espanso e vetroresina interna. Le cerniere brevettate di Wingham sono in lega di zama e alluminio. Alla chiusura collassano su se stesse e si inconchigliano fra i controstampi tra scocca e portiera. Il Safety Lock System è presente anche su City Suite per comandare i portelloni di ingresso e i portelloni posteriori. L'ampio portellone posteriore con apertura Safety Lock si apre verso l'alto. Il garage posteriore ha la dimensione di 1,30 x 1,30 x 95 cm d'altezza. Uno dei pacchetti optional di City Suite include il gradino elettrico. Il gavone bombola nel City Suite si trova dalla parte guidatore e può contenere la bombola da 10 kg. Nel lato guida oltre al gavone bombole troviamo il gavone del servizio WC con la cassetta Dometic da 19 litri. I serbatoi coibentati e riscaldati hanno la possibilità di contenere 100 litri di acqua chiara e 100 litri di acqua grigia con valvole a sfera al posto delle classiche ghigliottine. Il City Suite è dotato di una truma combi gas ibrida perciò con funzionamento a gas ed elettrica. Ha scelta una truma combi gasolio. Oltre al secondo airbag in Wingham troviamo il traction control di loader cioè l'aiuto della partenza in salita e il controllo della sbandata in salita e in discesa. In 5,99 metri troviamo un'ottima dinette con quattro posti a sedere ampi e comodi. Nella nostra fallegnameria interna creiamo tutto il mobilio del City Suite. La cucina del City Suite è dotata di un fornello due fuochi, un frigo trivalente da 96 litri e una cella frigo da 9 litri. In dinette come sempre troviamo la doppia presa usb. Il tavolo con apertura a petalo si apre per raggiungere comodamente tutti e quattro i posti a sedere. Per ottimizzare gli spazi Wingham dà di serie anche i sedili su piastra girevole. Luci led a basso consumo sono dimerabili e al tocco si possono alzare o abbassare l'intensità. Il City Suite è dotato di un ampio armadio per i capi spalla, due cassetti e un'anta aggiuntiva sotto. Per sfruttare tutto lo spazio disponibile Wingham ha inserito due cassetti in garage lato passeggero e un'anta lato guidatore. Per il mobilio proponiamo cinque diverse colorazioni di laminato. Toucher, Total White, Olmo chiaro, Olmo scuro e Fenix. Fenix un materiale anti riflesso, soft touch, anti impronta digitale e anti graffio. Se viene graffiato basta un panno umido stirato sopra per ripararlo. Anche nei tessuti Wingham propone dei materiali molto pregiati, dal ecopelle di prima scelta ha i nostri 100% cotone o 100% lino. Il bagno del City Suite è un bagno ben studiato negli spazi e molto capiente. Il WC Dometic in ceramica è resistente e garantisce una lunga durata negli anni. Un optional interessante su City Suite è il letto elettrico per poter variare il volume di carico del garage. Misura 1,96 x 1,26 m.